I carabinieri della compagnia di Agropoli, diretta dal capitano Francesco Mann, al termine di specifica attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà l'autorità giudiziaria di Vallo della Lucania, un noto pregiudicato trentunene di Agropoli, poiché responsabile di detenzione illegale di armi e munizioni. I militari del nucleo operativo radiomobile, a seguito di perquisizione domiciliare eseguita presso l'abitazione del pregiudicato, hanno rivenuto e sottoposto a sequestro varie cartucce e bossoli per carabina, illegalmente detenuti, nonché una carabina ad aria compressa del genere proibito. L'interessato, già destinatario di un provvedimento di divieto e di detenzione delle armi emesso dal prefetto di Salerno nell'anno 2008, è stato nuovamente segnalato alla preditta autorità.